Un momento di riflessione, Renna è costretto a richiamare Caneo, vedete che il giocatore inquadrato si tocca la gamba a sinistra, finamento gioco, ecco il cross, l'intervento di Desolati ed è il gol, Pistoiese 1, Palermo 0, ha segnato Desolati sugli sviluppi in un'azione eseguita dalla bandierina, si trattava appunto di un corner, adesso Montesano, trattiene un buon pallone Montesano, poi salta due uomini, punta verso l'area di rigore, Lamiacaputo, Lamiacaputo sulla sinistra, il cross di Lamiacaputo, un'incertezza di Macella, è il gol, è il gol, è il gol, ha pareggiato De Rosa, Palermo 1, Pistoiese 1, De Rosa gol, è il terzo gol di De Rosa in questo campionato, in due partite, De Rosa si è avventato sulla respinta di Macella ed ha battuto da... C'è Ghedin, e c'è anche Zagano che vedete inquadrato con il numero 2, Tunnel, tiro di Zagano ed è il 2 a 1, ed è il 2 a 1, peccato, il Palermo aveva compiuto il prodigio, era riuscito a riportarsi in parità, ed è stato trafitto quattro minuti dopo il gol di De Rosa. Ghedin, Re, va via bene Re, si scansa, incredibilmente Bigliardi, Capone è il 3 a 1, è il 3 a 1. protesta di Cicco e la protesta di un guerriero ferito.